No, c'è una caccia spasmodica del fronte bellicista e bellicoso per fare liste di proscrizione di presunti amici di Putin o del partito della Resa, che per ora è una ricerca destinata al fallimento perché non c'è nessuna persona seria con la testa sul collo che abbia mai detto che sta dalla parte di Putin e che Putin ha ragione. Altra cosa sono quelli che dicono che non bisogna mandare le armi, ma lo dicono ovviamente perché come tutti gli analisti militari hanno osservato le armi non sono in grado, purtroppo le armi che stiamo mandando, non sapendo bene a chi le stiamo mandando, prolungherebbero la guerra, aumenterebbero i morti civili e prolungando la guerra aumenterebbero anche le potenzialità della Russia di mangiarsi territori ucraini dai quali poi sarebbe difficile farla tornare indietro. Questa è la ragione per cui molti sono contrari all'invio delle armi, una ragione pragmatica, non una ragione così irenica da anime belle. In realtà il dibattito è un dibattito di totale retroguardia perché alla gente, come dicevi tu giustamente, interessa sapere quando finirà e tutti sperano che finisca quanto prima nell'interesse del popolo ucraino perché il tempo gioca a vantaggio di Putin e dell'esercito russo, non certamente degli ucraini, visto che ogni giorno c'è un'avanzata lenta ma inesorabile e c'è un aumento del costo in termini di vite umane e civili e di territori perduti e di avamposti anche perduti. Altra cosa invece è dire né con la Nato né con Putin, questa è una posizione secondo me molto condivisibile proprio perché ci hanno sempre detto che è la propaganda di Putin a dire che l'Ucraina stava entrando nella Nato, mentre se è vero quello che diciamo noi occidentali e cioè che mai la Nato aveva pensato di prendersi l'Ucraina, resterebbe da spiegare perché Zelensky ho già detto dobbiamo rassegnarci e non c'entriamo più, ma soprattutto resterebbe da spiegare quello che è successo l'altro giorno, perché l'altro giorno i russi hanno bombardato un cosiddetto International Peacekeeping and Security Center a Yavoriv, a una trentina di chilometri dal confine polacco. E quella roba lì, come la chiamiamo? Perché gli americani dopo l'attacco hanno detto reagiremo, difenderemo il nostro territorio come se fosse loro territorio, quella è Ucraina, non è Stati Uniti. E hanno detto noi comunque non abbiamo militari coinvolti, ma si sono dimenticati di avvertire l'ambasciata americana a Kiev che nel frattempo stava twittando un elogio ai soldati eroici americani, polacchi, lituani del Regno Unito, del Canada e di altri paesi che addestrano forze ucraine. Come lo chiamiamo questo centro che è stato bombardato e semidistrutto? È un centro NATO, è una base NATO? Siamo andati a vedere sul sito della NATO, quel centro risulta nel sito della NATO dal 1995 e lì si sono svolte varie esercitazioni, anche l'anno scorso, interforze delle quali si è molto parlato. Allora il tema non è soltanto se l'Ucraina entra o non entra nella NATO e oggi Zelensky ha detto non ci entra più, ma se la NATO esce dall'Ucraina, perché una soluzione negoziale passa attraverso innanzitutto l'uscita dell'esercito russo dall'Ucraina, ma anche dall'uscita della NATO dall'Ucraina, ove mai ci fosse in forme camuffate appunto da International Peacekeeping and Security Center. Mi ha lasciato di sale la battuta del Presidente del Consiglio, di sale. Perché? Premesso che le… due minuti e le lo spiego. Premesso che le sanzioni certamente incidono e le sanzioni sono uno strumento che si è sempre fatto ricorso in politica internazionale per indebolire un avversario politico, si è sempre fatto ricorso alle sanzioni, quindi le sanzioni, nulla contro le sanzioni, sono uno strumento forse necessario, anzi senza forse necessario in un momento di guerra. Quindi non è quello il problema delle sanzioni, il problema è che sappiamo benissimo che le sanzioni colpiscono in modo diversissimo o niente o anzi gli Stati Uniti o poco la Francia o molto, moltissimo, molto la Germania per tantissimi motivi, moltissimo l'Italia. L'Italia con altri paesi europei forse è quella che viene maggiormente sanzionata dalle sanzioni. Bene, il nostro PIL aumenterà del 3% quest'anno invece del 5% circa che si era preventivato. Bene, sappiamo anche che questi processi incidono in modo completamente difforme, asimmetrico all'interno di un paese, perché a me che aumentino le tariffe di tre volte può anche importarmene molto poco. Ad alcuni fortunati molto poco, al 60-70% del popolo italiano importa moltissimo, non perché tengono i condizionatori aperti 24 ore al giorno, ma perché non hanno i soldi per pagare le bollette. E allora questo governo invece di tirar fuori, beh fate un po' di sacrifici italiani, viva Dio, dobbiamo sostenere gli ucraini, mi spieghi concretamente, non come è stata fatta all'epoca del Covid per parare il colpo nelle categorie meno protette, passando attraverso le banche, aspettando mesi per avere i rimborsi. Mi spieghi concretamente come fanno le persone che ci rivolgono a me quotidianamente dicendo di non avere i soldi per pagare le bollette, chi gliele paga e attraverso quale sistema il governo italiano gli pagherà le bollette e gli pagherà la benzina per andare al lavoro, mi spieghi questo? Non faccia le battute ridicole, ridicole di dire, beh insomma italiani un po' di sacrifici, i sacrifici sappiamo benissimo che in questa situazione alcuni li fanno duramente e una parte della popolazione li fa per modo di dire o per niente o per niente, fino adresentano il governo italiano è inol